Pisa con l'allenatore ha fatto un bel 63 punti finora, il terzo posto, direi la miglior difesa di tutto il campionato. D'Angelo ricorda soprattutto la sua esperienza a Rimini qualche anno fa, adesso a Pisa dopo un avvio un po' traballante, l'ha sconfitta soprattutto in casa contro la Pro Patria, fu un pesante per tutto l'ambiente, poi ha iniziato a macinare punti. Tant'è che nelle ultime partite ha fatto dei bei risultati, dovremmo avere una slide anche che ce le rimostra, eccole qua, infatti è decollato e non ha più perso perché nelle ultime partite, a parte il pareggio di... E che ha sbagliato il rigore, il rigore all'ultimo minuto, anzi forse era già... Tra l'altro con una mezza lite, batto io, batti tu, alla fine il rigorista era lui, l'ha sbagliato, però andiamo poi a vedere l'attacco del Pisa che è veramente una cosa incredibile, guarda qua. Da Marconi a Moscardelli che chiaramente non ha bisogno di presentazioni, Pesenti che all'inizio era al Piacenza e poi è andato al Pisa. Tanto di cappello al Piacenza che con un bomber come Pesenti l'ha ceduto a gennaio per prendere Ferrari e hanno rinforzato la squadra paradossalmente, quindi complimenti.